Bentornati per la parte 3C, cioè quindi la terza puntata, la terza sottoparte della terza puntata. Vi ricordo che la terza parte è più concentrata, diciamo tratta in modo molto marginale di programmazione, è più concentrata sull'installazione del sistema operativo, l'installazione degli applicativi che ci serviranno e poi anche qualcosa su reti e altre cose, infatti vediamo qua, questa è la parte prima, parte seconda che abbiamo già visto, parte terza, quindi parte terza abbiamo visto l'installazione del sistema, installazione del software applicativo già fatto e adesso l'ultima parte, soprattutto su linea di comando terminale e così via, quindi noi in questo momento iniziamo la parte 3C. Allora, come facciamo dunque? Allora ripartiamo da sopra, allora vedete queste sono due macchine, io ho soltanto spostato un pochino le finestre, quindi direi che possiamo mandarle a pieno schermo, poi questa la mettiamo qua e invece mandiamo a pieno schermo quest'altra qua, perfetto, dopodiché adesso apriamo un altro comando, un'altra linea di comando, ok? la mettiamo qua, così ne abbiamo due che possono sempre servire, facciamo la stessa cosa sotto Linux, vedete l'avevo in realtà già fatto, allora un attimo solo, ecco, facciamo una cosa così, così abbiamo una linea di comando un po' più lunga, bene, allora diciamo che quindi possiamo iniziare, ok? Allora, la prima cosa che vorrei fare è parlare un po' di linea di comando e delle sue caratteristiche, allora per esempio, se voi prendete quello che fa l'Explorer, vedete che noi qui abbiamo sostanzialmente il sistema a nostra disposizione, ci occupiamo quindi principalmente qua di dischi, dei dischi che oggi come oggi sono molto spesso, soprattutto nei portati, dallo stato solido, quindi è come se fossero delle chiavette USB di grandi dimensioni, ma in realtà anche e soprattutto su classe server sono ancora con la precedente tecnologia che prevede una magnetizzazione, una, diciamo, una memorizzazione di tipo magnetico su supporti tenuti in rotazione da motori su dei piatti, è una tecnologia vecchiotta ma estremamente affidabile. Bene, allora, stavamo dicendo, noi qua come facciamo a capire dove siamo, ok? Allora, se noi vedete, andiamo su Dispc, vedete che c'è scritto Disco C, Disco D, queste sono le Declist Edition, se noi facciamo doppio clic qua, abbiamo il nostro Disco C, ok? Bene, allora, proviamo ad andare, diciamo, proviamo a capire meglio come questa cosa viene organizzata. Allora, diciamo che sotto Windows, perché in questo caso ci stiamo occupando di Windows, noi abbiamo per esempio un Disco C, ok? Dopodiché qui c'è il backslash, questa si chiama radice del disco, dopodiché sotto la radice ci sono dei rami, diciamo che potete vederlo come un albero montato al contrario, ok? Il numero di rami è noto, nel senso che non può mettere di più, di meno, insomma, dipende da molte cose, e prima o poi si arriva ovviamente alle foglie di quest'albero, ok? Facciamo un esempio, vedete, se questo è C, quali sono i nomi di questi nodi, ok? Allora, vedete se, siccome siamo in C, vedete che qua c'è scritto C, due punti, questi sono i nomi dei vari nodi, prendiamone solo due, Users e Windows, innanzitutto quanti ce ne sono? Ce ne sono sei, e due di questi sono Users e Windows, vedete che qui ne avevamo messi solo tre, quattro, cinque e sei, ok? Quindi questo lo chiamiamo Users e questo lo chiamiamo Windows, ok? Uno e due, benissimo. Dopodiché, scusate, mi confondo sempre, se noi adesso per esempio entriamo dentro Users, vedete che c'è IE User e quindi qua diciamo che io ovviamente qui disegno soltanto una parte, incidente, continuo a sbagliarmi, qui di qua io posso disegnare IE User, ok? E poi qua, supponiamo di fare doppio clic, a un certo punto vedete che qui ho tutto quello che riguarda l'utente, tra cui per esempio Desktop, ok? Quindi, qui ci sarà un'altra voce e qui ci sarà Desktop, ok? Bene, se io faccio doppio clic qua, vedete che qui, queste qui siamo effettivamente sul Desktop, infatti vedete che questi sono i file che avevamo scaricato prima e quindi siamo arrivati sul Desktop. Ora, se io torno indietro di uno, per esempio, basta fare clic qua, non siamo sul Desktop, siamo sull'utente. Se io apro il Command Prompt, vedete che io ho scritto CMD qui dentro e lui me l'ha trovato, vedete che lui mi scrive C Users, IE User, ok? Ora, uffa, vedete, C Users, IE User, ok? Quindi noi siamo qua, in questo momento, ok? E noi siamo qua, e siamo qui, anche qui con l'Explorer, all'interno c'è il Desktop. Bene, a questo punto, esattamente così come noi qui vediamo l'elenco dei file, se vogliamo possiamo vederlo da questa parte con il comando Dir, ok? Se voi andate a controllare, in effetti, qui ci sono le stesse cose, vedete Videos, Pictures, OneDrive, Music e così via, ok? Sono esattamente le stesse. Io adesso però voglio andare a vedere sul Desktop, come abbiamo visto prima, faccio doppio clic qua, come faccio a fare la stessa cosa qui? Faccio CD, CD sta per Change Directory, D, poi per esempio scrivo solo D, e poi schiaccio Tab. Vedete, Tab, lui mi dà alcune possibilità, che però non sono tutte quelle che voglio io, ok? Allora io schiaccio tante volte Tab finché trovo Desktop, oppure scrivo Desktop. A questo punto, se io rifaccio Dir, vedete che a questo punto vedo veramente quello che mi serve. Ora, due cose. Prima di tutto, io sono andato avanti, diciamo, mi sono mosso in questa maniera, andando per così, no? Facendo da C, ho fatto CD Users, CD IE User, CD Desktop, ok? E se voglio tornare indietro? Allora, se io voglio tornare indietro, per esempio sono in Desktop, e voglio tornare in IE User, io posso andare, faccio, uso sempre il comando CD, ok? Però, uso una directory speciale. Vedete che qui, il comando Dir mi mostra tutta una serie di cose, poi mi mostra tre directory, una che è primo, che era il progetto che avevamo realizzato con il CodeBlocks, e l'altra sono due directory, una punto punto e una punto. La directory punto è un modo per indicare la directory stessa, quindi se io faccio CD punto, non è cambiato niente, ok? Non è molto furbo, ma in realtà ha una serie di utilità importanti, che comunque noi qua non vedremo. Se io voglio tornare indietro, devo usare la directory punto punto, perché la directory punto punto indica la directory padre di quella corrente, ok? E infatti vedete che siamo tornati qua, ok? Quindi, in sostanza, è come se, per esempio noi siamo qua, facciamo CD punto punto, andiamo indietro, facciamo di nuovo CD punto punto, andiamo qua, proviamoci, ok? Allora, qui facciamo ancora, vedete? Ah, un'altra cosa, esattamente come avevamo visto prima, con i tasti cursore su e giù, io posso andare a ripescare la storia, l'history, ok? Quindi io, per esempio, se voglio fare di nuovo CD punto punto, la ripesco con i cursori su e giù, finché non la trovo e la rieseguo. Vedete che noi siamo in users, ok? Però io posso ancora tornare indietro di uno, ok? E vedete che sono in C. Se io faccio dir, questa è la directory a tutti gli effetti radice del mio file system, ok? C è sostanzialmente il disco rigido. Tuttavia, molto spesso i dischi sotto Linux, scusate, sotto Windows, sono partizionati, quindi sono divisi in vari dischi. Per esempio, può esserci il disco C e il disco D. Se voi inseriste una chiavetta USB, la chiavetta USB verrebbe mappata con un altro nome, per esempio D, ok? E quindi, in sostanza, voi qui, supponendo appunto di inserire una chiavetta, voi avreste una seconda, un secondo disco, ok? E qui dentro, a sua volta, potrebbe avere una serie di cose, ok? E potrebbe essere la chiavetta. Ma, adesso, qui la chiavetta non ce l'abbiamo, però abbiamo visto che se noi andiamo qua, vedete che c'è anche il disco D. Il disco D è una cosa puramente casuale, è un disco virtuale, che è quello che ci è servito per le guest additions. E proviamo ad andare a vedere cosa c'è dentro. Ah beh, attenzione, qui, no, meglio non avventurarci, sì. Proviamo qua, proviamo di qua. Allora, se io voglio cambiare disco, faccio D due punti, Enter, e ho cambiato disco. Se io faccio D, vedete che questo è il contenuto del disco. Allora, cosa è successo? È successo che quando io ci faccio doppio clic sopra, in realtà lancio presumibilmente questo o questo in automatico, ok? Vedete che qui c'è scritto Autorun. Comunque, non stiamo a sottilizzare. Quello che conta è che io, diciamo, ho un secondo disco che si chiama D, ok? E anche qui, per esempio, vedete qui questa directory equivale a un sistema operativo ormai non più in uso che si chiama OS2, ok? Se io faccio D, vedete questi sono i dati di, ok? Se io faccio CD, lui mi dà il path attuale, cioè il percorso attuale, che è D due punti OS2. Se io adesso faccio C due punti, torno nel percorso di prima, cioè nel disco C. Quindi, per esempio, se io faccio D, faccio CD, users, poi voglio andare avanti, faccio backslash e ci metto IE user, ok? Vedete che ne ho fatti due un colpo solo e poi faccio ancora CD desktop, ok? E ci siamo. Se io adesso faccio D due punti, vedete che torno nella directory in cui ero prima. Se io faccio C due punti, idem, ok? Non perdo, per così dire, il mio puntatore. Ora, quindi, diciamo che qui noi abbiamo visto il comando CD che mi permette di andare su e giù e il comando DIR. Se io faccio per esempio DIR punto punto, faccio DIR della directory precedente, cioè in questo caso di IE user, ok? Infatti vedete che si vede desktop, ok? Se io per esempio facessi DIR punto punto backslash punto punto, farei la DIR di users, vedete? IE user public. Ma se io facessi addirittura così, farei DIR di C, ok? Quindi, questo qui, da qui a qui, si chiama percorso e in particolar modo questo è un percorso relativo. Tutti i percorsi relativi iniziano senza il backslash, perché sono relativi alla posizione in cui sono. Altrimenti io potrei ottenere lo stesso risultato, cioè vedere il contenuto della directory root del disco C, facendo DIR backslash, ok? Perché in questo modo io vedo la radice del disco C, perché disco C? Perché io sono in C, ok? E volendo potrei anche fare una cosa del genere C, due punti, backslash, ok? Altrimenti io potrei fare D, due punti e in questo modo vedo il contenuto del disco D, ok? Però in generale una cosa di questo genere, questo è un percorso assoluto perché comincia con slash, altrimenti io potrei fare D, ok? Poi dopodiché cosa potrei fare? Users, ok? Ecco, D users, ok? In questo modo vedete che io ho fatto la DIR di un percorso assoluto perché comincia con backslash, ok? Mentre quelli relativi sono più o meno di tutte le caratteristiche ma non cominciano mai con backslash, ok? Bene, quindi abbiamo visto sostanzialmente i comandi C, D e DIR. Ok, allora direi che la prima cosa da fare è vedere la stessa cosa sotto Linux. Vi ricordo soltanto una cosa, casomai non sapeste, io qui ho insistito diciamo 50-50 tra Linux e Windows perché Linux, in generale Unix, è probabilmente il sistema operativo che voi usate di più. Voi non lo sapete, o in realtà penso che lo sappiate, ma se non lo sapete ve lo dico ora, diciamo al buon 99% dei telefoni cellulari, dei tablet e cose di questo genere, hanno sistemi operativi basati su Unix. Per esempio Android è un tipo di Linux, ok? e l'iOS, cioè il sistema operativo di Apple, è uno Unix perché la Apple quando ha scritto il suo sistema operativo si è basata su uno Unix in particolar modo, su un tipo di Unix che si chiama BSD. Quindi diciamo che siccome ci sono molti più smartphone al mondo che computer, di sicuro Unix è molto più usato di Windows, solo che la gente probabilmente non ci fa caso più di tanto. Inoltre dal punto di vista universitario Unix è estremamente usato e su internet la gran parte, diciamo per quello che so io, quasi tutti i server sono basati su Unix. Quindi dal mio punto di vista è molto importante che voi abbiate anche queste competenze di base. Allora vedete qui è scattato dello screensaver, quindi basta puntare verso il basso, cliccare e tirare su questa specie di tendina. Rifacciamo test, perfetto. Allora abbiamo visto come funziona il file system sotto Windows. Ebbene sotto Unix è quasi uguale, dove il quasi crea problemi. Allora per esempio io voglio sapere in che directory sono. Dall'altra parte avevo usato cd, io qui devo usare un altro comando che si chiama pvd. Vedete subito un'altra differenza, c'è uno slash. Dall'altra parte avevo backslash, tanto per complicare la vita alla gente. Inoltre non c'è il nome del disco, non c'è proprio. Quindi se anche voi inserite una chiavetta non c'è un secondo disco, ce n'è sempre uno solo. Quindi allora andiamo a dare un'occhiata su un foglio di carta, come funziona il meccanismo delle chiavette. Allora diciamo che funziona in questa maniera. Sotto Unix voi avete un unico file system che parte con slash, che è la radice, ok? Per esempio una cosa di questo genere. E' fatto comunque nella stessa identica maniera, ok? Anche la directory punto, la directory punto punto è uguale, stessa cosa. Tenete presente che ovviamente il sistema di Windows è stato realizzato ben dopo il sistema di Unix, perché il sistema di Unix è fine anni 60 e il sistema di Windows deriva da un sistema DOS che è dell'inizio degli anni 80, quindi ovviamente è successivo. In realtà i progettisti del sistema DOS è molto probabile, almeno io così avevo letto ma non sono sicurissimo, che abbiano usato il backslash perché il progettista, uno dei progettisti che aveva realizzato Windows e anche per il DOS, era una persona che aveva lavorato alla digital e c'era un altro sistema operativo che era il WMS nel cui la divisore era il backslash. Però insomma, sono cose che sono avvenute veramente moltissimi anni fa. Comunque sia, questo è il percorso per esempio di Unix, ok? Allora supponiamo che io adesso inserisca una chiavetta, ok? Se io inserisco una chiavetta dove andrà a finire? Allora ci sono all'interno del sistema, non avrò un secondo albero, ci sono all'interno del sistema delle directory speciali. Per esempio, di solito c'è una directory chiamata slash mnt, che come fa capire il nome sta per mount, ok? Quindi cosa succede? Succede che supponiamo che io abbia un file system di una chiavetta, ora cosa succede? Questa chiavetta viene inserita all'interno di questo albero come se voi effettuaste un innesto su un albero, no? Non avete presente come si innestano gli alberi, come insomma per fare, per gemmare tipi diversi, per esempio di ciliegie. Allora io cosa faccio? In sostanza è come se io cancellassi questo e al posto di questo ci mettessi l'altro albero delle directory, ok? Quindi questo viene innestato lì dentro. Dopodiché, quando per qualche motivo io lo tolgo, e per toglierlo io faccio l'equivalente di espelli, che è un'operazione che si chiama amount, questi tre rami qua spariscono e ricomparino i due sottostanti. È come se io togliessi il ramo e lui ricomparisse e ricomparisse il ramo sottostante, ok? Per tutto il resto in realtà è fortunatamente molto simile, ok? Solo i comandi hanno qualche piccola differenza. Quindi, vediamo queste piccole differenze. Allora, il comando cd serve anche lui per andare su e giù. Per andare, per vedere cosa c'è, il comando è non è dir, è ls. Allora ls da solo non vi fa vedere molto, però se voi gli mettete delle opzioni, per esempio meno la dove l sta per long e a sta per all, vedete che io vedo molte più cose, vedete che non mi stanno nello schermo. Allora io come posso fare? Posso vederne una pagina alla volta. Allora, se voglio vederne una pagina alla volta, io prendo questo elenco e lo mando ad un altro programma che mi fa vedere un po' alla volta, ok? E questo segno verticale si chiama pipe e significa che l'uscita di questo programma finisce sull'ingresso di un altro programma e quest'altro programma è more, che è chiamato paginatore, proprio perché fa vedere le pagine una alla volta. Allora, se io faccio così, vedete che io vedo, ok? Dopodiché io per esempio premo il tasto return e vedete che vado una riga alla volta, altrimenti io premo il tasto barra spazio e vedo una pagina alla volta e vedo, a questo punto vedo tutto, ok? Per il resto è tutto uguale. Per esempio, io voglio, vedete io qua sono dentro a home test, ok? Allora, io voglio andare nella root, come faccio? cd, slash Benissimo, quindi qui per esempio notate che sotto l'inux funziona peraltro anche dir, ok? Però diciamo che il sistema migliore è usare ls. Ora, per esempio, vedete questi sono tutti i sottorami, quindi per esempio supponiamo che io voglio andare dentro a media, ok? cd, media, ok? Poi faccio dir, ok? Poi c'è test, posso fare test, cosa vedo qui dentro? Ah, ma allora c'è qualcosa di strano, vedete questo e sembra qualcosa che ci può interessare. Allora, se io lancio un comando che si chiama mount, scopro questa cosa, vedete? Vedete questa, vedete? Type ISO 9660, questo è, sono le guest additions, esattamente come dentro Windows veniva fuori un disco aggiuntivo chiamato D, ok? Qui c'è un disco aggiuntivo, però per quel motivo che vi ho detto prima, non è un nuovo disco, è semplicemente una parte del file system, che poi qua, vedete, viene mappato in modo diverso, per esempio se io faccio doppio clic qua, sperando che non succedano cose strane, eh, vabbè, non ci sono riuscito, comunque, eccolo qua, ci sono riuscito, vedete che questo, vedete, se io faccio, vedete, c'è scritto che deve essere zero, deve essere zero il dispositivo fisico, ignoratelo, è montato qui sopra, quindi è innestato, come dicevamo prima. Vogliamo andarci dentro, vedete, io sono già in media test, quindi posso fare CD Box, eh, scusate, V Box, V Box, ok, faccio Enter, poi faccio LS, e vedete che questo non è altro che il contenuto, lo stesso identico contenuto, il colore indica varie cose, ok, e soltanto si chiama sintassi colorati. Comunque, a parte questo, noi abbiamo esattamente le stesse cose, però è molto importante che voi capiate la differenza base dei due file system, cioè uno è basato su un solo albero, Unix, l'altro è basato su più alberi, uno per ogni eventuale disco, ok, questa è in assoluto la differenza più importante. Il comando CD dato da solo sotto Unix, mentre dall'altra parte vi diceva qual è il percorso corrente, il comando CD sotto Unix vi porta nella vostra home, abbiate pazienza, il mondo è bello perché vario, ok, molto bene, e anche qui ci sono percorsi assoluti e percorsi relativi, per esempio, io voglio andare dentro a MediaTest VBox, ok, come posso fare? Allora, io faccio PWD e sono in HomeTest, allora vorrei fare un percorso relativo, faccio CD, ok, quindi devo tornare indietro di uno, e così vado in Home, poi tornare indietro di un altro, e così vado in Slash, poi posso fare Media, vedete che io a questo punto se faccio Tab, lui me lo espande già perché mi sta creando lui stesso il path, poi io posso fare Test, e poi faccio VBox, ok, e questo è un CD con un percorso relativo, relativo perché non c'è lo Slash, è lo stesso identico concetto, quindi diciamo che è tutto molto simile, ci sono alcune differenze, però poco significative, una volta che ci avete preso la mano non ve ne rendete neanche più conto, infatti a me capita di usare i comandi uno sull'altro, devo fare un po' di pasticci, poi uno se ne rende conto e usa il comando giusto, ok, però io avrei, sotto Unix se io faccio CD meno, mi porta nell'ultimo path, ok, nel path precedente, ok, sotto Windows che io sappia non c'è nulla del genere, ora io vorrei provare a fare la stessa cosa con un percorso assoluto, se il percorso è assoluto comincia con Slash, quindi io cosa faccio? CD Slash, quindi a questo punto vado a prendere questo percorso qua, vedete? Io per esempio potrei scrivere direttamente così, quindi posso fare Media, Test, Vbox, ok, e ci siamo, quindi ancora una volta vi ricordo, path relativi, path assoluti, la differenza è molto importante, ora, torniamo nella nostra Home, e poi andiamo sul nostro Desktop, ok, questo è il nostro Desktop, allora se vedete c'è una cartella chiamata Primo, che è quella creata dal CodeBlocks, quando abbiamo fatto il nostro piccolo esempio, ok, andiamo a vedere dall'altra parte, dall'altra parte, noi per andare nella nostra Home, in questo caso facciamo CD punto punto, dir, però noi dovevamo andare in Desktop, scusate, facciamo dir, e vedete che ci siamo, vedete che anche qui c'era la directory Primo, perché l'abbiamo chiamata nella stessa maniera, entriamo nella directory Primo, ok, ok, vedete che c'è scritto bin, che è una directory, main.c, obj, primo cbp, e primo layout, questo è il file che descrive il progetto, ok, CodeBlocks Project, obj contiene i file oggetto, lo vedrete poi nel corso, main.c è il nostro file punto c, se noi facciamo more main.c, vedete il nostro file punto c, molto più semplice ancora di quello che avevamo visto, dentro a bin, ci sono, bin sta per binary, quindi se noi facciamo bin, andiamo qua, facciamo dir, e vedete che, poi c'è una sottodirectorie debug, dovuta al fatto che noi, questo però, tutte le cose che vedrete, dir, vedete, questo è primo punto exe, ok, se io scrivo primo punto exe, col tab, e vedete, io l'ho lanciato, e quindi ho lanciato tutti gli effetti, il mio programma, quindi, seconda cosa importantissima, per lanciare un programma, da linea di comando, è sufficiente che io ne scriva il nome, ci sono altri sistemi operativi, del passato, in cui io per lanciare un programma, devo scrivere una cosa tipo, run primo punto exe, che dava proprio l'idea, che voi lanciavate il programma, ora, dentro windows non è necessario, stessa cosa, dentro a linux, quindi facciamo la stessa cosa, per esempio, andiamo dentro a primo, ok, notare sempre lo slash, anziché il backslash, poi facciamo ls, vedete che è uguale, perché il code blocks, ovviamente funziona nella stessa maniera, ora, per esempio, proviamo a fare more main.c, stessa cosa, c'è anche un altro comando, che è cut, che fa la stessa cosa, ok, va bene, più o meno, ovviamente, qui non abbiamo tempo di andare, tanto per il sottile, andiamo dentro a bin, cd, vedete, io qui non scrivo niente, faccio semplicemente tab, lui me lo spande automaticamente, perché c'è solo una scelta, poi facciamo ls, primo, ok, se io faccio ls-la, lui mi dice che è un eseguibile, si capisce da questi codici, però lasciamo perdere, allora, se io voglio eseguire, io potrei scrivere primo, allora, prima cosa, non c'è l'estensione, dall'altra parte, vedete che c'era scritto, primo.exe, dove exe sta, chiaramente, per eseguibile, l'estensione caratteristica dei sistemi DOS, e quindi Windows, sotto Unix, non sono necessarie, ok, si possono mettere, ma non sono necessarie, infatti molto spesso ci sono, allora, se io adesso scrivo primo, succederà una cosa strana, vedete che lui mi dice, primo, comma, not found, ma come not found, è lì, allora, non è, non è trovato, per il semplice motivo, che per motivi, che non stiamo qui a vedere, per motivi di sicurezza informatica, non nel percorso standard, quindi diciamo, all'interno di quello che il sistema cerca, quando io lo lancio, non è previsto, allora, io come faccio? Gli dico, guarda che nella directory corrente, punto, quindi nella directory corrente, punto, poi ci metto slash, esiste un file chiamato primo, ok, adesso vedete che gli è piaciuto, ok, quindi, importante concetto, se voi volete lanciare un programma, dovete procedere, semplicemente scrivendo nel nome, ok, attenzione, questo vale per i programmi compilati, quando vedremo molto brevemente, i programmi python, vedrete che, il python, è un linguaggio interpretato, e quindi, quando voi volete, lanciare un programma scritto in python, lo dovete lanciare, un po' come vi dicevo prima, solo che anziché dire run, primo, dovrete fare python, primo, una cosa del genere, ok, molto bene, adesso dobbiamo ancora vedere, un po' di programmi, scusate, un po' di comandi, allora, tanto per cominciare, torniamo alla nostra posizione, e andiamo sul desktop, che così fa sempre comodo, ok, quindi andiamo anche di qua, nello stesso punto, cd, punto, punto, allora, cd, punto, punto, e ci siamo anche qui sul desktop, ok, bene, adesso vogliamo creare una directory, facciamola, allora, per creare una directory, c'è un comando, che si chiama mkdir, e quindi lo chiamiamo, boh, prova dir, ok, mi raccomando, niente spazi nei nomi di file, questo vale, assolutamente, è una regola fondamentale, ok, io capisco che voi siete abituati sotto Windows, a mettere, a mettere degli spazi all'interno dei nomi delle directory, o dei file, è una pessima abitudine, perché purtroppo va a confliggere con vari problemi interni dei sistemi operativi, e a volte crea problemi gravi, ogni anno con Codeblocks, a me capita tutti i santi anni, di avere delle persone che hanno dei problemi che non vi sto a descrivere, sono veramente strani, proprio strani, dovuti al fatto che hanno messo degli spazi all'interno dei nomi delle directory, ok, comunque, abbiamo creato la directory, benissimo, cd, prova dir, non ho fatto semplicemente tab, e ci siamo, stessa cosa di qua, ok, mkdir stesso comando, prova dir, vabbè, ho sbagliato, vedete ho scritto prova dir, benissimo, cambiamogli nome, come faccio? allora, io sotto Unix ho un comando che si chiama movemv, move ovviamente muove, ok, quindi se io faccio prova dir, e dopodiché, notate che lui mi ha messo automaticamente lo slash per indicare che una directory, adesso se io faccio di nuovo tab, vedete che lui mi riscrive prova dir, ma io a questo punto glielo cambio e gli metto prova dir, ok, e vedete che anche qui ovviamente è cambiato, così abbiamo visto anche un altro esempio, vediamo la stessa cosa a questo punto, torniamo indietro di uno, e proviamo a cambiare nome a prova dir, ok, in questo caso, proviamo con, il comando è ren, quindi allora facciamo così, ren prova dir, in prova dir 2, ok, quindi io faccio una cosa del genere, vedete che adesso è cambiato, è diventato prova dir 2, ok, adesso, facciamo un minimo di esercizio, allora abbiamo visto che, dentro a primo, andiamo dentro a primo, anzi, facciamo così, facciamo dir primo, ok, quindi io sono ancora dentro a desktop, e faccio dir di primo, vedete che qui c'è main.c, io adesso vorrei copiare, il file main.c, dentro a prova dir 2, stando sul desktop, allora io cosa faccio, copi, il comando sotto, sotto windows e copi, faccio, adesso lo devo andare a pescare dentro a primo, quindi primo, ok, backslash, poi, main, punto c, dove lo copio, lo copio in un'altra directory, che si chiama prova dir 2, un altro path relativo, quindi prova dir 2, vedete, me l'ha preso, anche perché è l'unico che comincia con prova dir, e basta, glielo copio lì dentro, ok, se adesso io per esempio vado qua, scusate, andiamo direttamente sul desktop, vado in dentro a prova dir 2, vedete che ho ottenuto questa cosa, ok, facciamo brevemente la stessa cosa, però dovreste aver capito che è molto simile, allora, allora vado a copiare, qui il comando è cp, ok, lievemente diverso, cp primo, main.c, in prova dir, fatto, ok, adesso noi facciamo ls prova dir, e vedete che c'è il file main.c, ok, adesso, notare che noi abbiamo copiato, quindi copiare significa fare una copia, adesso andiamo di nuovo dentro a prova dir, e proviamo a cancellare questo file, come facciamo, il comando è rm, che sta per remove, ok, ho dato solo tab, perché c'era solo quel file lì, e lui me l'ha cancellato, adesso noi andiamo qua, e vogliamo andare dentro a prova dir2, abbiamo questo, e vogliamo cancellarlo, il comando qui è del, ok, tutto lì, se vogliamo possiamo anche cancellare la directory, torniamo indietro, e cancelliamo con un comando che si chiama rmdir, la directory, ok, il comando rmdir vale anche sotto, sotto unix, quindi facciamo rmdir, prova dir, ok, vedete che è scomparsa anche l'icona qua, correttamente, bene, direi che, io qui sto consultando, ok, direi che il grosso l'abbiamo fatto, allora, adesso dobbiamo creare, facciamo un esempio, in cui creiamo un file, ok, allora, andiamo di nuovo, rifacciamo la directory, prova dir, prova dir, andiamo dentro a prova dir, benissimo, adesso creiamo un file, allora, ci sono svariati editor, quello che si usa di più, che usano di più, diciamo, quelli che hanno, diciamo, diciamo che io uso un altro editor, ma sono, perché sono abituato ormai, alla mia età, però, di solito si usa un editor che si chiama nano, quindi per esempio, test.txt, ok, quindi adesso io editerò, un file che si chiama test.txt, vedete che io qua ci posso scrivere quello che mi pare, poi quando ho deciso che mi basta, faccio ctrl x, ok, lui mi dice, save modified buffer, sì, quindi devo schiacciare y, file name to write test.txt, schiaccio, enter, e siamo tutti contenti, vedete che, se io faccio cat test.txt, sono tutto contento di aver realizzato questo file, interessantissimo, adesso torniamo qua, e realizziamo, facciamo la stessa cosa, allora un tempo dentro al dos c'era un editor, che si chiamava edit, però non c'è più, allora a questo punto noi cosa possiamo fare, andiamo a prenderci il notepad, notepad, allora tenete presente che word potrebbe fare la stessa cosa, ma il file.doc, come poi vedrete nel corso, contiene all'interno tutta una serie di metadati, quindi non è in grado di realizzare un file puramente di testo, invece il notepad è in grado di farlo, allora per esempio, questo è un file di prova, ok, benissimo, a questo punto lo salviamo, lo salviamo, facciamo save as, ok, dove andiamo a salvarlo? Andiamo a salvare sul desktop, e poi andiamo, siccome a noi interessava, ok, creiamo di qua prova dir, come prima, prova dir, ok, vedete che qui è comparsa l'icona di prova dir, e lo andiamo a salvare qua, vedete, lo voglio di tipo .txt, file name, allora, era test.txt, ok, save, perfetto, adesso di qui facciamo dir, andiamo in prova dir, eccoci qua, eccolo lì, test.txt, adesso qui cat non funziona, se io faccio more, vedete che qui esattamente, abbiamo fatto esattamente quello che volevamo, ok, bene, allora diciamo che, tutto sommato, abbiamo visto, le cose di base, che vi servono, per poi gestire al meglio, il terminale, ok, che è importantissimo, purtroppo, come vi dicevo, sono competenze che di solito mancano, sto soltanto controllando di non aver dimenticato qualcosa, sì, direi che ci siamo, bene, allora adesso possiamo chiudere questo, e passiamo a qualcosa che in effetti è più interessante, allora, questa macchina virtuale, così come la vedete, così come anche l'altra, è collegata alla rete internet, perché abbiamo visto benissimo, che quando ci serviva a scaricare qualcosa, noi andavamo su internet col browser, scaricavamo quello che ci serviva, e facevamo quello che dovevamo fare, quindi, se è collegata alla rete internet, vuol dire che ha un indirizzo IP, ora, qui non stiamo a indagare su come sono fatti gli indirizzi, perché sarebbe un argomento molto complicato, però, un minimo di formazione, assolutamente, ce la dovete avere, allora, che cosa sia un indirizzo IP, probabilmente lo sapete già, perché tutti noi abbiamo internet a casa, però, è importante che voi, che lo vediamo anche da un punto di vista, un minimo più formale, allora, come facciamo a vedere, come indirizzi IP abbiamo? Allora, sotto Windows, noi possiamo usare un comando che si chiama ipconfig, al quale poi diamo un parametro, che si chiama all, slash all, adesso vedete che qua, eccolo qua, allora, riproviamoci, così ce l'abbiamo tutto per intero, perfetto, allora, vedete, qual è l'indirizzo IP qua? Ora, l'indirizzo IP qua è questo, 10.0.2.15, ok? Andiamo a vedere sotto Unix, sotto Unix il comando è diverso, tanto per gradire, e si chiama ifconfig, ok? ifconfig sta per interface configuration, eccolo qua, 10.0.2.15, ma com'è possibile che abbiano lo stesso indirizzo IP? L'indirizzo IP è per definizione univoco, ok? Allora, hanno lo stesso indirizzo, perché questi sono indirizzi particolari, quelli che cominciano con 10, ok? Tanto per darvi l'idea, gli indirizzi del Politecnico di Torino, cominciano con 130.192. qualcosa, e sono 4 blocchetti, anche lì. Ogni blocchetto è un numero che va da 0 a 255, ok? Quindi in totale c'è un grandissimo numero di indirizzi possibili. Bene, allora, questi sono indirizzi particolari, quelli che cominciano con 10, cosiddetti privati. Quindi, questo significa che VirtualBox, oltre a fare tutto quello che abbiamo visto, gestisce anche la rete. E quindi questo significa che quando gestisce la rete, lui per ogni macchina virtuale, genera una rete privata. Quindi, ciascuna di queste macchine virtuali ha la sua piccola rete privata, in cui fare quello che deve fare. Però, a noi piacerebbe metterle in comunicazione, queste macchine, no? E' quello che vorrei farvi vedere. Allora, come facciamo a metterle in comunicazione? Allora, noi, se vi ricordate, le abbiamo messe, le abbiamo fatte funzionare come NAT, che va bene per tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, però, non va bene per quello che io voglio fare adesso. Allora, cosa siamo costretti a fare? Siamo costretti a cambiare questo modello di rete. non dobbiamo certo reinstallare, però dobbiamo fare reboot, quindi le dobbiamo spegnere, ok? Spegnere questa, poi dobbiamo spegnere la macchina Windows, perché ovviamente ha lo stesso problema, perché non è né di Windows né di Linux il problema, il problema è di VirtualBox. Ecco, qui abbiamo sempre qualche problemino, ma questo è un altro discorso. Allora, adesso, mentre lui ci pensa su, noi andiamo sotto Windows, ok, powered off, ok? Tutte e due sono a posto. Adesso andiamo a vedere dentro a settings, per esempio di Windows, andiamo dentro a rete, e vedete che c'è scritto NAT. Bene, allora, quali altre possibilità abbiamo? Ebbene, abbiamo un bel po', vedete? Ok? Allora, quali sono le possibilità che ci interessano di più? Allora, io qua, ovviamente me lo sono già messo da parte, questo è il manuale, scusate, è il manuale del VirtualBox, in particolar modo il capitolo 6 del manuale, quello che riguarda la rete, vedete che noi qui, vedete, abbiamo varie possibilità, e qui, vedete, ogni più indica qualcosa che si può fare, per esempio, la virtual machine può parlare all'host, quindi il guest può parlare all'host, vi ricordo che l'host è il portatile fisico, ma a me piacerebbe, vedete che l'host non può parlare alla virtual, cioè può parlare, insomma, i più, avete capito, ok? Io vorrei che le due virtual machine potessero parlarsi, e vedete che NAT non prevede questa possibilità, infatti l'abbiamo appena scoperto, l'indirizzo IP è lo stesso, quindi non si può fare, però, vedete, ne abbiamo delle altre, adesso qui non stiamo a vedere i dettagli, naturalmente se volete potete andarvelo tranquillamente a vedere, però, diciamo che il modo più semplice è questo, perché qui, utilizzando NAT Service, abbiamo anche la possibilità di continuare a andare su internet, ok? Cosa che altrimenti, qui, non è detta, non è possibile, ci sono tutta una serie di possibilità, queste possibilità sono estremamente ben studiate, e permettono di fare tutta una serie di cose, perché, ad esempio, voi potreste dover realizzare delle reti interne, che hanno dei diversi livelli di sicurezza, e quindi voi potreste voler non poter fare certe cose, ok? Però qui noi non abbiamo problemi, quindi dobbiamo scegliere la modalità NAT Service, bene, scegliamo la modalità NAT Service, ora, la modalità NAT Service, vedete che qui è chiamata NAT Network, però c'è un problema, e io qui non riesco, e questo nome è indispensabile, perché questo? Perché questa NAT Network funziona se io definisco prima una rete, un nome di rete, e questo nome di rete, io glielo devo andare a definire, direttamente a livello di VirtualBox, cioè gli devo dire, guarda che, io voglio creare una rete, naturalmente potrei averne più di una, per esempio, potrei avere dieci macchine virtuali, due si parlano con una rete, altre tre con un'altra, e così via, in questo caso ce ne basta una, vedete, io faccio NAT Networks, e io faccio più, e vedete che me ne crea uno, il nome è quello lì, a me va bene, quindi io faccio così, a questo punto arrivado qua, vado di nuovo su Network, faccio NAT Network, e vedete che qui mi compare adesso nell'elenco il nome che io desidero, per cui siamo a posto, faccio la stessa cosa sotto Linux, Network, NAT Network, mi compare lo stesso, perché chiaramente io posso scegliere o non scegliere di agganciare quella macchina virtuale a quella rete, io lo voglio fare, ma potrei anche non farlo, ok? Benissimo, vi ricordo che qua per esempio ci sono altre due macchine virtuali, in questo momento spente, che uso io per i miei motivi, e quelle lì non c'entrano niente, benissimo, allora queste due qua dovrebbero essere a posto, ok? andiamo a controllare perché non vorrei essermi sbagliato, Network, perfetto, ok? Molto bene, adesso le possiamo fare ripartire tutte e due, ok? Adesso a questo punto cosa succede? Che quando loro partono, quando giunge il momento di andare in rete, VirtualBox provvederà a fornire loro un servizio diverso da quello di prima, mentre prima forniva un servizio in cui ogni macchina virtuale aveva la sua, rete tutta sua, tutta privata, adesso ci sarà una rete sempre privata, però per due macchine, che sono quelle che ho iscritto in quella rete, e in più, volendo, ci saranno altre reti, per esempio se io facessi partire altre macchine virtuali, ovviamente lo potrei fare, e quelle non sarebbero in quella rete, oppure in una delle tante altre modalità che abbiamo visto prima. bene, adesso io nel frattempo faccio partire anche Windows, perché questa fase è sempre un pochino critica, ok, questo si è risvegliato senza problemi, e che mi fa piacere, dai, ok, quindi questo lo vado a mettere lì, questo è Windows che vuole sapere se andare a tutto schermo, abbiate pazienza, ma questo è un passaggio importante, perché è estremamente interessante, ok, ci siamo quasi, questi qui li possiamo spegnere, allora, cominciamo ad andare a guardare da Windows, visto che è già partito, allora, qui ci scriviamo terminal, benissimo, allora, abbiamo detto che allagghiamo un pochettino, control più, allora, ifconfig, ecco, questo è lo stesso, adesso mi aspetto che dall'altra parte sia diverso, perché se no è un guaio, allora, pass, con la P maiuscola, W0, RD, punto esclamativo, via, ok, è andato, allora, qui facciamo, cmd, benissimo, ipconfig, slash, ah, ecco, vedete, qui non mi trova più la tastiera, va bene, andiamogli a correggere, italian, all, indirizzo, eccolo qua, vedete, 10.0.2.5, di qua, è, punto, 15, ok, adesso, come facciamo a vedersi, come facciamo a far sì che le macchine si vedano, beh, esiste un comando che si chiama ping, è come se uno toccasse con un dito l'altro, allora, di qua c'è il 5, e di qua c'è il 15, la prefisso uguale, quindi 10.0.2.15, ok, ecco, vedete che la macchina Unix, mi sta rispondendo, vedete, reply, ok, adesso proviamo ad andare di qua, e proviamo a fare ping 10.0.2.5, e questo però non mi risponde, com'è possibile? Allora, non è che magari c'è qualche altro problema, allora facciamo così, facciamo ancora un esperimento, allora, un altro modo per entrare in contatto, è usare un comando che si chiama ssh, Windows 10, ha fatto notevoli passi avanti, perché esiste l'SSH, sia come client, che è quello che useremo noi, ma anche come server, inoltre ci sono tutta una serie di tool, presi da Linux, che si possono adattare, il funzionamento è decisamente buono, allora, noi possiamo fare ssh, che è un modo per connettersi, 10.0.2.15, ecco qua, allora, vedete che la macchina Linux mi ha risposto, mi chiede, ma siamo sicuri che sia lui, ma sì, siamo sicuri, ok, e adesso mi chiede la password, però la password è dell'utente EA user, quindi se io anche gli metto la password, che è test, e a lui non piace, ovviamente, allora io cosa faccio? Faccio ctrl C, poi, anziché fare ssh, in questo modo, ci scrivo qua, test, e poi qua ci metto, ecco qua, la E diet, a questo punto, quello è il nome dell'utente dall'altra parte, a questo punto faccio test, ha funzionato, ora, questo, in questo momento, io mi sono connesso sulla macchina Linux, tenete presente che qui siamo su due macchine virtuali, ma potrei essere dall'altra parte del mondo, e se io do il comando LS, vedete che io sto vedendo il file system dell'altra macchina, se io lancio un comando, qualsiasi tipo sia, se io consumo CPU, per esempio il classico comando sotto Linux è top, mi fa vedere quanti processi ci sono, quanta memoria libera c'è, eccetera, eccetera, io lo sto facendo girare sull'altro computer, che qua per inciso è lo stesso, perché sono macchine virtuali, ok? Se io voglio uscire di qua, faccio exit, e torno alla mia macchina, vedete, connection closed, ok? Allora, l'SSH da questa parte non lo posso fare, cioè verso la macchina Windows, perché l'SSH in questo momento, scusate, il Windows non ha il server SSH attivo, perché SSH è un protocollo, e come in genere in informatica, noi abbiamo quello che si chiama, diciamo, il sistema client server, ok? Per cui abbiamo qualcuno che fornisce il servizio, e qualcuno che ne usufruisce, ok? Per esempio, se io vado su un sito web, io sono il client, e il server web è appunto il server, cioè quello che mi fornisce il servizio. Nel momento in cui io, per esempio, qui faccio SSH, io sono il client, perché usufruisco del servizio, e il servizio me lo fornisce quest'altra macchina qui, ok? Ora, la macchina Windows non è in grado, così configurata, di fornire il servizio, mentre la macchina Linux, sì, perché noi abbiamo installato, tra le tante cose, OpenSSH server, che è esattamente questo, ok? Per questo che abbiamo installato tutta una serie di cose, per esempio, NetTools, serviva IFConfig, eccetera, ok? Benissimo. Allora, proviamo a capire, cercare di capire, perché Windows non risponde, ok? Allora, usiamo un comando che si chiama nmap, ok? Che abbiamo installato prima, e proviamo a fare, meno V, meno A, scusate, sì, meno V, meno A, e poi gli diamo l'indirizzo IP, 10.0.2.15, ok? No, scusate, .5, ok? Ora, lui sta cercando, allora, che cosa serve l'nmap? È una cosa che si chiama, è chiamato PORSCAN, è un po' come andare a bussare a casa delle persone per vedere se c'è in casa, se sono in casa. Ora, tenete presente che lui non trova niente, e dice che l'host è down, cioè, a lui sembra che il computer dall'altra parte sia spento, ok? Oppure, siccome è un po' sospettoso, vedete, dice, sembra giù, ma se veramente è su, se tu sai che veramente è su, vuol dire che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che blocca i nostri tentativi di analizzare la faccenda. Tenete presente che il PORSCAN è un'attività considerata ostile, quindi significa che se voi fate il PORSCAN, qualcuno che non se lo aspetta, questo qualcuno si potrebbe arrabbiare. In questo caso, chiaramente, è un ambiente di test, quindi non ci sono problemi, ma a me serve per farvi capire come funziona il sistema, perché viene usato in effetti anche per quello. Allora, andiamo di qua. Allora, vediamo un po' se riusciamo a capire cos'è che potrebbe provocare questo sistema, questo problema. Potrebbe essere il firewall, perché voi sapete che Windows ha il firewall, ovviamente, e ce l'ha anche Linux, ovviamente. Allora, proviamo a disattivarlo, ok? Allora, lo disattiviamo, turn off, turn off, ok, l'ho disattivato, vedete che lui si arrabbia un po', dice, fa attenzione, perché questo non è una cosa furba, ha ragione, però, va bene. Adesso andiamo di nuovo da questa parte, rifacciamo Nmap. Bene, siccome abbiamo abbassato il muro di fuoco, il firewall, vedete che a questo punto l'Nmap trova un sacco di cose. Vedete, ci sono delle cosiddette porte, ok? Port TCP, cioè delle porte di connessione aperte. Per esempio, proviamo col ping. Ah, adesso risponde, ok? Quindi, questo significa che prima non rispondeva, perché il sistema bloccava tutti i tentativi di accesso, ok? Quindi, questo è un esperimento che abbiamo fatto. Ora, sempre nell'ambito di questi esperimenti esiste un comando sotto UNIS che si chiama NETSTAT, che, come potete immaginare, sta per stato della rete, NETSTAT. Se io faccio NETSTAT PIPEMORE, è mortale a farlo vedere, dimostrarlo a pagine, vedete che io qui, oh, vedete, questo mi indica lo stato delle connessioni e in particolar modo qua mi dice, vedete, mi dice che sulla sulla porta SSH c'è scritto LISEN, cioè lui sta aspettando. Adesso faccio Q per fermarlo, poi vado di qua, rilancio l'SSH di prima, cioè l'SSH con cui io mi ero connesso, ok, mi sono riconnesso e adesso riprovo di nuovo con questo NETSTAT e vedete che qui c'è l'SSH, guardatelo bene, perché adesso cambierà, eccolo qua, vedete, SSH ESTABLISHED, significa che dall'altro indirizzo IP qualcuno si è connesso, ok, quindi NETSTAT, adesso qui ve l'ho buttata lì molto rapidamente, permette di vedere, ci sono un sacco di informazioni che potete vedere, permette di capire qual è lo stato delle connessioni in questo momento, bene, allora, vediamo un po', quindi questo l'ho fatto, io qui ho il mio programmino da svolgere, perfetto, ora, l'ultima cosa che vorrei mostrarvi è duplice, allora, tanto per cominciare un piccolo giochino, allora, se noi qui dentro lanciamo un programma, per esempio l'S, è un programma, ok, esattamente come il nostro primo, ok, però ci sono anche programmi grafici con uscita grafica, per esempio il Firefox, ok, vedete, io lancio il Firefox, lui, vabbè, mi dà un po' di warning vari e poi mi mostra il Firefox in funzione, ok, bene, io adesso qui lo posso chiudere, is out of date, vabbè, ok, close tabs, perfetto, ce l'abbiamo fatta, ok, vedete che a questo punto lui è tornato al punto di partenza, ok, allora, se io lancio, dicevo, il Firefox, lo lancio così, vedete, lui parte, ma io in questo momento, lasciamo perdere che cosa sta facendo il Firefox, e dai, su, se io vado qua, vedete che se io schiaccio entra, non mi succede niente, cioè il terminale è bloccato, ok, bene, allora, esiste un modo per evitare questo problema, benissimo, adesso, se io faccio Firefox e poi qua ci metto una e commerciale, significa, prendi il Firefox e lancialo in background, ok, in questo modo, lui parte, fa quello che deve fare, ok, ma io continuo ad avere il mio terminale libero, vedete, e io potrei lanciare neanche un altro di Firefox, vedete, e poi ancora un altro, non è un problema, a parte il fatto che non ha molto senso, ok, molto bene, quindi, questo era solo per raccontarvi questa cosa, adesso però, un'ultima cosa, che, insomma, spero sia interessante, il mio scopo qua è di farvi vedere delle cose, vedete, io schiaccio enter, vedete, mi dice done, perché sono terminati, e il mio scopo qua è farvi vedere delle cose che ritengo interessanti, in modo tale che magari c'è qualcuno di voi che dice, ah, carina questa cosa, voglio provare anch'io, ok, e per provare magari si va a cercare documentazione, perché naturalmente su internet tutte queste cose si trovano senza alcun problema, chiaramente, bene, allora, io qui voglio fare una cosa, allora, torniamo qua, allora, questo qui lo chiudiamo, questo lo lasciamo al suo posto, rilanciamo il Firefox, speriamo che non crei di nuovo problemi come l'ultima volta, allora, abbiamo visto che la macchina Linux ha anche lui dei server, per esempio al server SSH, no, per favore, no, ok, ha anche lui dei server vari, per esempio SSH, allora, la mia domanda è, potrebbe essere forse un server web, no, la mia macchina Linux, allora, la mia macchina Linux, abbiamo visto, che ha come indirizzo il 15, ok, allora, io se qua ci scrivo, no, non qua, 10.0.2.15, e significa che io sto andando a interpellare la macchina Linux come server web, ok, e no, mi dice unable to connect, ok, bene, quindi questo significa che non è un server web, bene, allora, non è che possiamo trasformarlo in un server web, sì, naturalmente io qui la sto facendo molto, molto semplice, però proviamo ad installare, vedete, con il solito sistema, install, apache, 2, apache è il server web tipico di Linux, anche se non c'è solamente quello, mi chiede la password di autoautenticazione, e l'installazione di questo oggetto abilita anche il server, ok, perché naturalmente uno può abilitarlo, può disabilitarlo, può fare quello che gli serve, ok, benissimo, adesso lui sta facendo il suo mestiere, sta installando, non ci impiegherà più molto, per fortuna, abbastanza rapido, installato, andiamo dall'altra parte, adesso facciamo reload della pagina, ok, oh, vedete che il server web funziona, nel senso che la macchina Windows ha interrogato la macchina Linux chiedendogli se era un server web, e lui gli ha detto sì, sono un server web, questa è la pagina di default che naturalmente serve solo, vedete, c'è scritto it works, giusto per far vedere che funziona, ok, già, ma voi dite, ma io però vorrei farci qualcosa di serio, ok, va bene, ora qualcosa di serio qua non lo facciamo di sicuro, però, vedete che dice che il file, questo file, è questo qui, var www, html, index.html, vi ricordo che questo è un patto assoluto, ok, bene, proviamoci, cd var www, html, ok, se io adesso faccio more index.html, questo è il file html, corrispondente, vedete, però a me non interessa, allora io voglio crearne un altro, allora cosa faccio, sudo, perché queste sono directory di proprietà di root, move index.html in vecchio index.html, praticamente gli cambio nome, ok, a posto, adesso vedete che non c'è più, a questo punto io con nano realizzo un nuovo a index, però, scusate ma devo sempre fare sudo, altrimenti non funziona, html, ok, e qua ci scrivo questa, e una prova di serverweb. Poi lo salvo, ctrl x, save modified, yes, yes, ok, vedete che adesso c'è il file, se io faccio more index.html, c'è semplicemente questa parte, perché il testo è un sotto insieme dell'html, bene, se io rifaccio ancora reload, vedete che io ho caricato la nuova pagina web, quindi, se io volessi realizzare un sito web veramente molto semplice, perché oggi come oggi non basta più una cosa simile, questa sarebbe la soluzione, però tenete presente che molti siti web molto vecchi, per esempio il mio, sono fatti esattamente in questa maniera, cioè sono fatti con singoli file, scritti ovviamente in html che contengono quello che serve, ok, bene, direi che abbiamo fatto tutto, per cui adesso mi manca ancora solo una cosa, innanzitutto, siccome, spero, mi aspetto, ma può darsi, che qualcuno di voi voglia approfondire, allora vi dico che un buon posto dove trovare ottima documentazione è questo, ok, questi appunti di informatica libera scritti in italiano e è veramente un'opera enciclopedica, ok, c'è dentro di tutto, in particolar modo in questo sottosito che è sostanzialmente l'indice, c'è di tutto, ci sono un sacco di cose che possono servire e possono servire anche per il corso, difatti io di solito lo consiglio per il corso, anche per il corso, non è il libro di testo, però c'è, c'è infinitamente di più di quello che noi facciamo nel corso, ci sono anche cose molto diverse. Molto bene, adesso l'unica cosa che mi manca ancora da fare prima di chiudere è farvi, proporvi un esercizio come abbiamo fatto di solito, allora tenete presente che il primo esercizio che voi dovete fare è riprodurre tutto quello che abbiamo fatto adesso che richiederà un discreto mal di pancia perché le cose non filano tanto lisce e come avrete anche notato, benissimo, allora facciamo il seguente esercizio allora dovete fare sia sotto Windows che sotto Linux se avete il Macintosh lo potete fare tranquillamente anche sotto Macintosh considerando che il Macintosh è un Unix a tutti gli effetti dovete solo cercare il terminale all'interno di Applications all'interno trovate Terminal e lanciate quello ed è l'equivalente allora io vorrei che voi creaste per esempio andate sul desktop e poi creaste un albero di directory ok scusate non è tanto fuoco ok create un albero di directory A B C e D è un esercizio molto semplice create un albero di directory quindi con MKD è quello che ci serve dopodiché andate in C e qui dentro create un file con Notepad oppure Nano a seconda che del sistema operativo che state usando e create un file chiamato pippo.txt sapete che gli informatici usano molto questi nomi pippo.txt ok e c di dentro ci scrivete qualcosa dopodiché voi andate in A e da A scrivete il comando per copiare il file che era in C copiarlo in D ok una cosa semplicissima lo fate sia con PAT assoluti che con PAT relativi in modo tale da avere diciamo un minimo di panoramica su questa cosa bene allora direi che sostanzialmente abbiamo terminato questa parte che era strettamente legata all'installazione del sistema e all'utilizzo del sistema per cui terminiamo qua e ci vediamo per la quarta puntata che sarà sostanzialmente sul confronto tra Snap e C e Python e la quarta puntata